A Genova in mostra le nuove tendenze della nautica, un settore che continua a crescere, che ha superato gli 8 miliardi di fatturato. L'inviato Simone Lupo Bagnacani. Si è aperta la sessantesima edizione del Salone Nautico di Genova, che rappresenta un settore in ottima salute. Lo scorso anno è cresciuto infatti di oltre il 10%, superando gli 8 miliardi di fatturato e i 200 mila addetti della filiera, confermando anche l'Italia al primo posto mondiale con oltre 4 miliardi di export. Fino a martedì al Waterfront di Genova saranno quindi in mostra tutte le nuove tendenze del settore. Le tendenze di questo Salone richiamano quello che è tutto lo sviluppo e la ricerca che le nostre aziende hanno condotto in questi 10 anni. Quindi il filone è quello dell'innovazione green e della sostenibilità. La gente non vuole più correre, ma vuole avere la comodità all'eleganza della barca e alla fruibilità degli spazi, soprattutto esterni. Un'edizione che a giudicare dalle prevendite potrebbe superare il record di presenze sui moli. Infatti già dal primo giorno tanti appassionati e operatori del settore. Sicuramente c'è un'attenzione sull'elettrico, tante novità sull'elettrico, barcazioni con un nuovo design, una nuova tecnologia sul modo di navigare. C'è una ripresa anche della caratteristica di 10, 12, 15 metri, quindi diciamo ha una portata molto più ampia e si riprende il mare. Sì, una barca che mi piacerebbe, ma è un po' difficile acquistarla. Poi la novità è che tutto il taglio delle barche hanno linee diverse, ci sono poche linee armoniche rispetto a prima, insomma c'è un certo segno di modernità. Il settore però la regge mi sembra, no? Più dell'auto sicuro, per fortuna.